Su PC e tablet Windows 10 è possibile catturare le schermate di programmi, applicazioni e giochi in ben 5 modi diversi. I screenshot sono indubbiamente il modo più pratico per salvare la videata del computer, per conservarla o per condividerla con un'altra persona. 5 modi per fare uno screenshot in Windows 10 1. Screenshot più salvataggio dell'immagine negli appunti. Basta premere il tasto Stamp. È il metodo più usato da sempre per catturare gli screenshot. Potrete incollare l'immagine in Paint, Office o simili e poi salvarla. 2. Screenshot più salvataggio automatico dell'immagine. Premere contemporaneamente i tasti Stamp e il tasto Windows. È stato introdotto in Windows 8. E seguendo lo screen, lo schermo lampeggia per un attimo. Come nell'immagine di sopra, l'immagine viene salvata nella cartella Screenshot in Immagini. 3. Screenshot dall'elemento in primo piano più salvataggio dell'immagine negli appunti. Basta premere contemporaneamente i tasti Stamp e il tasto Alt. Questo metodo permette di catturare uno screen dall'app in primo piano. Potrete incollare l'immagine in Paint, Office o simili e poi salvarla. 4. Screenshot con lo strumento di cattura. Per avviare lo strumento di cattura basta digitare il nome all'interno del box di ricerca di Cortana. Lo strumento è nato con Windows 7 ed è stato migliorato solamente in Windows 10. È possibile scegliere cosa catturare. Formato libero, un rettangolo, una finestra o l'intero schermo. È anche possibile selezionare il ritardo prima di catturare lo screenshot. 5. Screenshot con i tasti fisici. Solo tablet. Surface e gli altri tablet PC con a bordo Windows 10 possono catturare schermate semplicemente utilizzando una combinazione di tasti fisici. Tenere premuto il pulsante Start e successivamente quello per abbassare il volume. 6. Fare uno screenshot da tastiera su Surface. Quest'ultimo non ha il tasto Stamp. Per catturare una schermata da Surface basta premere contemporaneamente i tasti Win più Spazio più Fn. Lo screenshot sarà salvato automaticamente nella cartella immagini di Windows 10. 6. Eravate a conoscenza di tutti questi modi per catturare gli screenshot? Grazie a tutti